Grande successo per la Sagra del Cinghiale che torna a Peia domenica 16 settembre. Precisiamo subito che questa Sagra quest'anno sta in piedi con le sue gambe grazie alla sinergia appunto al lavoro tra amministrazione e le piccole realtà commerciali locali. Per i tre anni precedenti vi ha aiutato la Camera di Commercio e poi appunto adesso state camminando da soli. Che cosa potranno trovare le persone che verranno qui a Peia domenica? Io penso che le persone che verranno a Peia troveranno certamente nel cuore del paese di Peia, nel centro del paese di Peia una grandissima festa, una manifestazione eco-gastronomica che farà da padrone il cinghiale, ci saranno piatti da degustare di cinghiale o da esportare, ci saranno appunto delle postazioni dove si potrà degustare gratuitamente salami di cinghiale, quindi offerti da alcuni locali e dall'amministrazione comunale, ci saranno e quindi a tutti i locali del nostro paese quindi si potrà cenare, si potrà pranzare a base certamente di cinghiale ma anche dei prodotti locali nostri del nostro paese. Quindi tutto questo poi verrà condito con dei vini locali bergamaschi, quindi la manifestazione si svolge come detto prima nel cuore del paese, nel centro del paese, ci saranno tutte le bancarelle con degli obbisti che presenteranno i loro lavori, ci saranno anche degli animali, ci saranno visibili anche animali dal vero che saranno lì appunto nei loro recinti, ci sarà un maniscalco che ferrerà i cavalli ancora all'antica maniera, tutto questo è in quella giornata. Poi ci sono spettacoli dalla mattina alle 10 fino alle 22 di sera, dalla mattina alle 10 ci sarà musica a 360 gradi di un DJ che verranno con dei ballerini e delle ballerine che potranno anche fare delle dimostrazioni di ballo fino alle 20, poi dalle 20 alle 22 ci sarà Nicoli con la sua band e Musica Life. Ci saranno divertimenti un po' per tutto, ci saranno gonfiabili gratuitamente tutto il giorno per i bambini, ci sarà uno spettacolo per i burattini dalle 14 alle 15, ci saranno giuppini che vengono credo da Bergamo che faranno delle sfilate e manifestazioni, quindi vedi che ci sarà un po' di tutto. Poi ci sarà la scuola di danza di Peia, farà una dimostrazione delle ballerine, delle ragazze che imparano appunto questa danza classica, faranno un'ora di dimostrazione. Dalle 18 alle 20 ci trasferiremo, nonostante che la festa continuerà qua nel centro, ci trasferiremo poi a Peia Bassa dove c'è la boutique dell'Azzurra Modain e la trattoria Scarni, che l'Azzurra Modain offrirà un aperitivo per tutti e farà una sfilata di moda nel suo negozio e verrà accompagnata naturalmente ancora dai DJI.